Dopo Guglielmo Stendardo e Alberto Cerri, ecco Cesare Bovo, il 33enne difensore già in Abruzzo per iniziare la sua nuova avventura in Riva all'Adriatico. Con l'arrivo dell'ex Granata, il Pescara ha praticamente chiuso il rafforzamento del settore arretrato, almeno per il momento, considerando che a Massimodo non dispiacerebbe avere un altro esterno inorganico. Il pallino del tecnico pescarese Riccardo Fiamozzi, il Genoa chiede soldi per il prestito senza considerare che il giocatore Ligure è finito anche nel mirino del Frosinone che potrebbe strapparlo ai Biancazzurri. In partenza due fra coda Zuparic e Gionber che potrebbe tornare alla Roma, dovrebbe invece restare Davide Vitturini. E a proposito di cessioni c'è da registrare il passaggio del baby Francesco Mele classe 98 al Torino, vicino invece il trasferimento del portiere Mirko Pigliacelli al Trapani. Per il centrocampo i dirigenti adriatici non hanno fretta mentre tutte le attenzioni sono proiettate sull'attacco. Con Pettinari e Manai ai saluti dopo l'arrivo di Cerri si punta ad un bomber più esperto, il primo nella lista al di là delle smentite di circostanze, e Alberto Gilardino che vuole chiudere al più presto la negativa esperienza di Empoli. C'è il sì di Oddo anche se Paloschi e Denis rappresentano delle alternative più che credibili. Non verrà invece a Pescara l'ex lancianese Tiam, da valutare la permanenza in biancazzurro di Jean-Christophe Baybec, rientrato a Pescara nelle ultime ore. Ma domenica prossima sarà di nuovo campionato con la squadra che prosegue la preparazione al poggio degli Ulivi in vista della gara con la Fiorentina. Verre out per l'influenza, fuori anche Pepe, diversi giocatori che continuano ad allenarsi ai margini della prima squadra. Domani prove generali in un amichevole con il San Nicolò.